Bentornati cacciatori e benvenuti su questo nuovo video Mi scuso se in questi giorni non è uscito nessun video Purtroppo è un periodo diciamo un po' così, un po' difficile, un po' duro Ma i cacciatori come sanno tutti non si lasciano abbattere E quindi eccoci qua su questo stupendo, fantastico nuovo gioco Universe Sandbox Questo gioco appunto racconta dell'universo, un sandbox dove possiamo fare appunto cosa vogliamo Con il nostro stupendo universo Questa è la simulazione del sistema solare E possiamo andare a giocare su tutti i singoli aspetti, su tutte le leggi fisiche che comandano questo Fantastico mondo e lo spazio, lo spazio è una figata, ci ha sempre attratto, ha sempre attratto l'uomo E' infinito, è gigantesco, è infinitamente più grande delle grandezze a cui siamo abituati a rapportarci Quindi ha quest'aria un po' magica, un po' misteriosa e anch'io l'ho sempre adorato Ma non perdiamo altro tempo e andiamo un po' a vedere quali sono le figate, le cose più belle che riusciremo a fare Adesso registreremo un po' e vedremo di tenere i momenti migliori e le simulazioni un po' migliori Sicuramente la maggior parte saranno schifose, saranno noiosissime E ve le risparmieremo e quindi non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito Nel bellissimo mondo di Universe Sandbox E vediamo che possiamo anche andare a vedere, a sbloccare molte molte più caratteristiche Adesso andiamo a vedere magari sulla Terra, sulle quali ci saranno più familiari Nome Terra, massa, una volta la Terra, raggio 6370 km, la densità, l'età, miliardi, milioni Non lo so, tanti anni La temperatura media della superficie, la velocità, il periodo di rotazione di 23,9 La gravità, insomma veramente 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 un sacco di variabili Che possiamo andare a cambiare Detto questo Abbiamo detto che ci sono tantissime celebrità all'interno del Sistema Solare Velocizziamolo un po' per renderci conto meglio Della forma Giove, il grandissimo Giove Saturno Ma cosa dire del piccolissimo e dimenticato? Non riesco neanche a raggiungerlo Plutone Che destino triste per un pianeta essere il più piccolo e il più lontano di tutti allo stesso tempo C'è una sorte veramente magra Guardalo là Oh no Guardate come si divertono là Nel centro, tutto luminoso Calduccio Io qua fuori Piccolino, tutto solo al freddo Cosa succederebbe se facessimo diventare ad esempio il raggio di Plutone Dieci volte maggiore Cento Boom Questo è il Plutone che vogliamo Arrivato ad avere quattro volte la massa di Giove ma Ancora piccolino nonostante la grandezza aumentata Se lo aumentiamo di altre Dieci volte Oh Che cazzo è successo? Una supernova? Abbiamo fatta di gas Così Questo probabilmente perché nell'universo non possono esistere oggetti maggiori in una certa massa Senza che si trasformino in stelle E beccati la seconda stella del sistema solare Ma Raggio Mille Volte Di più Ancora piccolo Perché sei ancora piccolo? Oddio quanto è calda questa cosa Adesso lo vedete Plutone Sì sono qui Oh my god Ha raggiunto tipo bassa critica E la particella dopo Si è trasformata in una stella E appena abbiamo buttato dell'acqua sulla stella Penso Non lo so E scoppiata in una gigantesca supernova Ma pensati Che? Inghiottirà ovviamente tutto il sistema solare Dai Plutone Ti basta un po' d'acqua per diventare supercazzuto Lo so Ed è un po' gli effetti delle radiazioni Dell'esplosione di una supernova Anche ai confini del nostro sistema solare Una bella botta Ci arriva dopo un bel po' di anni Quindi si esplode quando ci siamo noi Non ce ne dobbiamo preoccupare più di tanto Però Ma cerchiamo di fare qualcosa di un po' più costruttivo Come diceva la maestra a scuola Ho trovato questa che è O dovrebbe essere La simulazione dello schianto Di due galassie Una galassia che potrebbe essere la Via Lattea Molto simile alla Via Lattea E un'altra Che danzano E ognuna di queste è sul mio computer Mettiamo un attimo in pausa nel momento in cui cominciano Cioè vedete Ognuna di queste due galassie Non è una cosa unica È formata Da miliardi Di stelle Che Cosa Noi ci sentiamo importanti Cioè Guardate quanti soli Può contenere una singola galassia E intorno a ognuno di quei soli Quasi sicuramente ci sono dei pianeti che orbitano Guardate Li sono così tanti Tutti insieme così densi Che formano un unico bagliore Poesia in movimento Cacciatori Poesia in movimento E vedete che le prime stelle della galassia in basso Vengono attirate dall'incredibile gravità del centro della galassia E man mano si andranno a fondere Stiamo guardando la simulazione Velocizzata A Centomila anni Ogni secondo stanno passando In questa simulazione Centomila anni Al secondo Guardate che danza È stupendo Questo gioco Se volete rilassarvi Ve lo scaricate belli belli Guardate tutte le stelle Che delirio di stelle Che viaggiano Si scontrano Esplodono Stupendo Terra e luna Cacciatori Voi immaginate che la luna Era così piccola E così lontana Della terra Ora si vede grossa Tadà Cosa succederebbe Se la luna fosse grande Il doppio Il triplo Dieci volte tanto Ma sì Ma Oh Ma adesso sì Che c'è una luna Piena cazzuta Ed ha La massa Di 12 terre Cioè più grande Lei della terra Eh sì Oh Bella grassa Sta luna Però vedete che Ah no Vedete un cazzo Vedete che la nuova Massa della luna Ha cambiato le regole Adesso è la terra Che gira Intorno alla luna Ma più probabilmente Si schianterà Ops E se la terra Avesse 75 lune Ha ha Lo sapevo che ve le eravate Chiesti E niente Semplicemente Non le tiene O cosa Speriamo che la terra Non abbia mai 75 lune Se lo spettacolo nel cielo Cioè al posto di vedere Una luna Vedete Oddio Quante lune Alcune sono esplose Alcune sono fuse Dallo scontro Con altre lune Altre si schiantano Esplodono davanti a noi Però altre Purtroppo ci colpiscono E quindi no Siccome no Proviamo ancora a fare una simulazione Partendo da zero Voglio provare a fare un sistema binario Di stelle Sole e noioso Prendiamo una stella più figa Tipo Proxima Centauri Boom E ti metto In binaria Ah già Si può fare C'è proprio l'opzione Non è che si Trovi il modo di farlo Non è già fatto Boom E quindi queste stelle Esistono effettivamente Nell'universo Alcune coppie di stelle I cui campi gravitazionali Si sono come dire Proprio Sposati Vanno Così d'accordo Si sono trovati in una posizione Di andare così d'accordo Da girare Intorno a Da se stessi Come in teoria È portato un pianeta A fare nei confronti Della sua stella Queste stelle Lo fanno nei confronti Di un'altra stella Disegnando Queste stupende forme geometriche Che sicuramente Hanno qualche rimando A numeri perfetti Pitagorici Che adesso non so Però Di nuovo Se siete Pitagora E ci state guardando In questo momento Commentino qua sotto E se mettessi In rotazione binaria Una Una stella Sempre uguale Non andiamo a fare cose Troppo complicate Ah verrebbe gigantesca Così Oh forse si Non si capisce un cazzo Ma forse si Perché non capisco Su che piano stiamo Ah adesso Il piano di rotazione Delle prime due stelle Viene modificato Dal passaggio Della terza Fantastico Vedete che più si gioca A questo gioco E più cose Veramente si scoprono Oddio Finalmente abbiamo scoperto Queste due stelle Ruotano Una specie Di spirale A molla Cioè che più Molla Sembrerebbe Il movimento Della terza stella Nei confronti Delle prime due No Fantastico Grazieatori Io starei qua Per sempre Oh mio Dio Guardate E sono sicuro Che nell'universo Esiste una cosa del genere Oh mio Dio Guardate Queste due stelle Che turbinosamente E questa che le segue Tutte e due Che ruota Intorno al centro Di gravità Formato dalla rotazione Di queste due stelle Cioè Penso veramente Che qualcosa di più bello Non riuscirò A farlo O a farvelo vedere In nessun modo Quindi Facciamo che Il video Per oggi Finisce qui Se avrete voglia Di vedere qualcos'altro O avete qualche suggerimento In merito a questo gioco Fatemelo sapere Nei commenti Saremo lesti Nel rispondervi E nell'accontentare Le vostre richieste Per quanto possibile Per il resto Niente Io sono Bergaster Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione in su Un commento qua sotto Non è mai sgradito E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti